Chi ha paura non è libero. È questo il titolo dell'ultimo libro del Ministro dell'Interno Angelino Alfano che presenterà venerdì 1 aprile nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna in occasione del convegno promosso dal Centro Studi Economia e Territorio. L'incontro che avrà inizio alle ore 18 sarà un'occasione per riflettere sulla situazione attuale in cui gli ultimi avvenimenti di Bruxelles hanno acceso ai riflettori sul tema della sicurezza che inevitabilmente va ad incidere sullo sviluppo economico. Oltre al Ministro saranno presenti diversi relatori come il consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni. Credo che un protagonista che sta vivendo in prima persona le relazioni internazionali con tutti i colleghi ministri degli interni di tutti i paesi occidentali che costantemente sta coordinando l'attività dei comitati per la sicurezza, quindi i rapporti con le agenzie per la sicurezza, può dare una lettura di questo momento storico che come sappiamo sta angosciando tantissimo l'opinione pubblica, i cittadini, sta facendo vedere buio sia per il futuro della propria sicurezza ma anche tutti noi perché non riusciamo a intravedere quale sarà il mondo in cui vivremo e in cui vivranno i nostri figli. E quindi credo che questo sarà un momento di riflessione non soltanto con Angelino Alfano ma anche con il rettore Stocchi, con Galassi che è il nuovo amministratore del gruppo Ferretti che ha i più grandi brand al mondo di cantieristica e con altri personaggi della Camera di Commercio come Varotti e altri che daranno una lettura anche socio-economica al momento che stiamo vivendo. Il terrorismo, ha detto Carloni, ha già raggiunto l'obiettivo di incutere il timore nella gente. Dobbiamo analizzare le paure insieme ai cittadini, ha proseguito, perché queste portano all'odio verso altri popoli e quindi un fenomeno ha concluso che deprime e preoccupa la società civile. Diciamo che la paura è uno dei sentimenti più vecchi, più antichi e chi mai non ha avuto paura cercheranno di dare una serie di articolazioni da vari punti di vista, che può essere imprenditoriale, culturale, dal punto di vista universitario e cercare di capire come affrontare questo tema e questa paura che ormai si sta infondendo nella nostra società.